Salve e benvenuti alla mia prima serie. Ebbene sì, anch'io faccio parte di quella categoria di musicisti ormai disperati perché a causa della pandemia siamo impossibilitati a condividere la nostra musica con il caro pubblico. Ho deciso quindi di registrare un minuto al giorno dalla ciaccona, dalla partita in re minore numero 2 per violino solo di Johann Sebastian Bach. Tranquilli, la ciaccona dura 15 minuti, quindi un minuto al giorno la serie dura solamente due settimane. Ogni minuto verrà affiancato da un altro minuto di videospiegazione per non lasciarvi persi in questo immenso e bellissimo capolavoro che è la ciaccona. Ma veniamo subito al punto ciaccona, partita, queste sono parole, cosa vogliono dire? La ciaccona è una parte di una più vasta composizione che è appunto la partita. Partita non è la partita di calcio, è semplicemente una composizione formata da danze. Infatti nella partita numero 2 di Johann Sebastian Bach abbiamo 5 danze, alemanda e infine la ciaccona. È una danza che risale addirittura al 500 di origine spagnola o latinoamericana. È formata da un tema che si ripete, quindi state attenti ad ascoltare, e delle variazioni sullo stesso basso del tema. Indovinate un po' oggi cosa sentirete? Il tema. Fate swipe. Grazie a tutti. No, no, no.